Sì, sì, dobbiamo, sì, per forza Ma vuoi mettere un punto? Aspetta! Non mettete un punto, non partiamo No, sento... come la tolgo l'audio tre volte? Ma non lo stai sentendo tu, mi sa che l'ho attivato per... Dobbiamo partire Aspetta! Che ti dà una cosa, Valentin Vabbè, ma non gridare, Vale, tanto non ti senti No, e poi potrei uscire per andare su Telegram E mettere il video, è un casino, non posso tenere Come faccio col cellulare, no? Non è comodo Non c'è neanche questo con il mio Proviamo a mettere i moton No, è cazzo tutti Datemi un attimo Inchia vale due ore, ragazzi No, no, sto guardando se funziona Ma le cose aiuti si conquistano soltanto pagando Che cosa? E come le vincisci cosa? Ah, sempre con i soldi veri Guarda, guarda sta cosa Ciro, ora c'ha questa capaccatura Quando scendi Perché lui ha vinto la partita E ha avuto l'ombrello E c***o a vedere questo C***o a spendere 2.000 soldi Che sali però questi? 24 euro 25 Sì, capito? 10.000 Ok, ci sono Ok, ci sono Sì, per favore Grazie Mi chiamo a me Odo Che pizza Questo gioco Che? No, sì Tu parte subito Eccola Parte subito A qualunque ora parte Fortnite E' pieno sempre Sì, sempre pieno di gente Uncora La modalità battleground Pure su paladine No, io li trovo Io dove scendere A posto Ora scende Vale al solito Nei campetti Eh qua Qua Venite tutti qua Aprile la mappa Aprile la mappa Rosso e giallo, sì No, io li Perché io li si è buttato Buttatevi Buttatevi Ora andate là Yuri devi seguire a noi Diglielo Devi seguire a noi Yuri Ma che non ci sente Eh ma tu diglielo Che noi parliamo qua Su questa cosa E lui no Ma non ti sentite No No Non lo sento Aspetta che attivo L'aggetto vocale Ma io a lui lo sento Eh lui E lui che non ci sente Eh lo so Attivare l'aggetto vocale Così lo puoi sentire Vabbè buttiamoci qua Sì Yuri E Valentino che non ci ha attivato L'aggetto vocale Capito? Dopo l'attivo Puglia un cazzo di fucile qua Ehi c'è il fucile C'è il fucile Eh io sono in culo al mondo Ammi sto cazzo di fucile Qua c'è un camion Che ha già fatto un spunto Eh? Io c'ho le vende Ma che è? Anzi dai sopra le camion No Buttati 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 Digli a Yuri se riesci a venire qua Yuri vieni da noi Eh Ti ho barro facile Eh ti ho barro facile Qua è pieno di armi Ho capito dalla parte opposta a Pinnacoli Quindi è probabile che muore Eh lo so Io ho preso di tutto qua Fucili da cecchino Munizioni Bolla Tutto Mi metto lo scudo Uno Due E vado con questo Mi servono Mi servono fucili Eh io sono solo con le vende Io sì Io c'ho tutto C'ho fucili Venite qua Qua c'è la produzione scudo pure Venite a prendervi Venite dove sono io Yuhuu E dove stai tu? Eh guarda nella mappa Mi vedi Il puntino Quello là Rosso Vedi un po' con la mappa Tu serve a me Qua c'è di tutto Venite a prendervi Visto le cose Noo Vieni verso te no Yuri Qua Peppe Guarda il triangolino Ecco Bravo esci da là Vieni da qua No Peppe da qua Guarda Dove cazzo sei? Esci fuori Guarda spero spero Mi ritroi al blu Ma di là è pieno Vabbè siete tutti qua dentro Ciao Peppe Ciao Che c'è dentro la porta? Goal Ora tiro Ah ma si può tirare? Guarda Peppe giochiamo Attenzione avanza Scatta Vabbè Ci spostiamo Prendetevi i materiali Prendetevi i materiali L'unica cosa per favore Non gridare Ecco così va bene Fatevi la legna La legna Mattoni Quello cacchio volete Poi dobbiamo fare le scale Ma tanto una vale l'altra Non la legna Cosa No è più resistente È più resistente Però se è nel lanciarazzi Nel lanciarazzi Te lo sfacciano lo stesso Quindi Peppe Prenditi quella pozione Qua guarda Prenditi sta pozione Questa No ce l'ha Non ce l'ha E la usi No Peppe non ce l'ha Pigliatele e la usi No parlavo Parlavo con chiude Così ti metti lo scudo Possibile modificare Perché dice No clicca due Usalo e clicca due volte Tipo con il tasto Ok Così ti sei messo un po' di scudo Qua c'è un Un pompa Ma ce ne va Accada ragazzi Sì Dai Deve mettere un punto Sulla mappa Allora No no Siamo perfetti Non ce ne dobbiamo andare In nessun posto Guarda Apri la mappa E vedi che siamo al centro Ma questo si restringe Sempre al centro Eh no Si restringe Dentro questo cerchio Però noi già siamo In un punto buono Capite Inutile che ci spostiamo Per rischiare di morire Tanto sono rimasti In 42 se vedi Là sotto la mappa C'è scritto 42 E iniziamo a costruire Allora No no Dobbiamo aspettare Ora perché Come scade il tempo Vedi ti dice dove si restringe E noi ci spostiamo Guarda Ok ancora Ora Ci vogliono 2 minuti e 56 Ora possiamo girare qua Cazzo Guarda facciamo così Andiamo Proviamo ad andare Al blu Dove Apri la mappa Dove hai messo Il puntino Tu lo vedi Si si va bene Andiamo 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 Di che è sto mitra Che non l'avete preso L'ho buttato io Ok Me lo piglio io Yuri dove sei Yuri Ok andiamo Andiamo Al blu Si si al blu Proviamo a salire La sopra Perché se ci buttiamo Nella città Ci distruggono Che sarà pieno di gente Ma non c'è una modalità Mirino più Testo destro Eh dipende dall'arma Tipo io c'ho il fucile Da cecchino Che l'ho preso prima E posso vedere lontano Lo tengo pure il fucile A pompa Il fucile a pompa Da vicino Fai la strage Invece Con l'altro C'è niente No Andiamo via Eh butta laggiù Ah boh Tengo tanti di quei materiali ormai E basta Andiamoci Eh Ne servono tanti Ma tanti E come cazzo Faccio a fare Sali Sali Dove stai andando Sali Premi Q E gira la rotellina Premi Q E gira la rotellina Quando devi Come cazzo Ok E' più facile Ma dove cazzo Stiamo salendo Guarda che A un certo punto Di può finire anche la linea E sta attento Ma butta Nito mamma Cato No È caduto di sotto Porca puttana Peppe che non mette le scale No Non è una parolaccia Butta Nito mamma E' un complimento Un complimento Peppe dove cazzo Ne hai fatte queste scale Ecco Così Vedi Eh Non li c'ho da una Eh Io pure Me ne sono accorto Che ne ne c'ho da una Ma la faccio io Faccio io La scala Che manca Prima che voliamo Di sotto Un'altra volta E cazzo La metto Sta scala Mettiamola qua Ma chi è che ha fatto Ste scale pazzi Io non sicuro Peppe è stato sicuro Ma dove stiamo andando Allora Ok vedi che ora sei ristretto Peppe Siamo perfettamente al centro Qua sopra siamo Perfetti Il problema è che abbiamo Poche armi Quindi dovremmo scendere A prendere A prendere Il problema è che qua Non ci fa costruire Più di tanto Aspetta che prende il fusile La cicchina Vediamo Perché dopo un po' Finisci Modere Aspetta che sto guardando Se c'è qualcuno Da sotto Ah Non c'è niente Se volete scendere Nella città Se volete scendere Nella città sotto Non c'è nessuno Ma io mi starei qua Fino a quando Non si restringe tutto Eh ma poi Ci servebbero Lanciarazzi Che non abbiamo Allora Vediamo se vedo qualcuno Magari l'ho ucciso Oh che è quello Là c'è razzi No Non c'è bisogno Di dirlo Se non lo vogliono Gli altri poi Io Arrivo subito Dove ci si abbassa Eh con Control Eh un attimo Yuri Aspetta che sto andando a prendere una cosa Peppe di gli aiuti Allora io vedete i nemici Stanno sotto di noi Sotto di noi Dove che io sono qua Aspetta Sotto di noi Sud 95 Sud 95 Stanno girando dentro il magazzino Ok lasciali stare Aspetta che sto andando a prendere una cosa Non ti posso sparare qua giù No Non sparare Non sparare Come? Ah ho capito Qua qua Dove sto io? No il magazzino gigante Guardate là Stanno lottando tutto Oh oh Mi hanno sparato Però non mi hanno colpito Un attimo Aspettate fatemi tornare Con il fucile da gecchino 195 dovevi dire 195 195 Minchia ce l'ho davanti 195 195 Ah posso Ora mi sparano in testa Dove cazzo sono? C'è la torre alla scala Sì E io come salgo? E io come salgo? Vabbè ci prova Al massimo mi fucila Sì Yuri Guarda il mio schermo Ma dove cazzo stai Yuri? Perché sei laggiù? Yuri sali Yuri sali Fallo salire Peppi No non andare ad ammazzarli Morirai sicuro No no muore muore Devono venire loro Lasciali stare Vengono per forza Devono salire Guarda guarda Stanno costruendo Vedi? Dove stanno? Ma dove siete voi? Sopra? Ma c'è un traietto Che è meglio papi Sparare il capello Oh già vanno colpito Come cazzo siete saliti? Ah avete fatto il miliardi di scale Attento Rota Ragazzi dove cazzo siete? Da dove stanno sparando? 195 Dove eravamo noi prima 195 dimmi Sì sì Non ti vuoi facciare che sparano Dove sono col pugilio di giochino Dove cazzo stanno? Oh Vieni qua per venire dietro cammina cammina Vieni dietro cammina 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 Ma cazzo No io sei fatto tutto Ma dov'è Juri? Ha provato a fare l'imboscata da dietro Ma io non li vedo Ma dietro mi hanno preso No mi hanno preso da dietro No mi hanno preso da dietro Dove sono Peppe? Eccoli là Sanno là? E' visto? No c'è questo è quello che è un altro gruppo quello Ma vaffanculo Spara a meno no? Quello è un altro gruppo Dici a Valentino che spara Non che sta fermo a mirare Ah E si sparano a tutti i cazzo di lati Ma stanno le bombe Dicione che si è scappato all'indietro Tanto loro non stanno in safe Ora 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 che non stanno in safe E stanno correndo Ora 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 dovete andare Ha ragione Juri Ma non possiamo Non li vediamo capito? Come non li vedete? Non mi posso affacciare Eccoli là guarda 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 Sul tetto Valentino Alla tua destra Alla tua destra Ok Sinistra ora Guarda sta là Lo vedo io Vicinare scale Guarda sul tetto Non là A destra Guarda qua I limiti della safe C'è la costruzione Lancia una bolla Guarda Lo vedi il campo da basket Eccolo là Bravo Uccidilo Vai vai Valentino Non posso Non posso Non lo prendo Nella costruzione Dove stanno E' più sopra vale Leggermente più sopra Ho visto Dicina a Vale Che lui non deve Mirare con il centro Deve mirare con il trattino Perché questo gioco è pillaristico Decidi mirare alla testa col trattino Sì lo so Devo mirare più sopra Io distruggo la cosa Tu uccidi Vedi che tenete la safe dietro al culo Che prossima a morire siete voi Peppe no No Peppe Scendiamo e l'ammazziamo Fugila a pompa Ma secondo me Scendiamo e ce ne andiamo Aurope Anche Spara 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 Minchia Minchia Morti Fine Ricominciamo Quindi siamo arrivati Che pal Non premere Sotto sotto Basso a destra C'è il ritorno alla lobby E metti pronto Metti pronto Porca puttana Come l'attivo la chat vocale Che non mi ricordo Su audio Devi attivare Chat vocale e ptt Dove? Chat vocale sì E ptt sì Ma no Pugito il che non lo voglio Sì vabbò Tanto non lo premerai mai Il tasto È Y Che vuol dire? E come parlo scusa? Ah solo per ascoltare lui Yuri mi senti? Lo puoi cambiare No no Lo puoi cambiare Yuri Devi parlare per forza Col push Tu tolco Capito? E non lo posso togliere Scusami No Che vuol dire? Ma che cagate è? Oh Guarda se trovi qualcosa No guardata No guardata Non c'è un cazzo Ora Yuri Yuri ascolta Te lo dico io dove ci buttiamo No Senta a me Qua 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 Guardate dove ho messo il corsa Guarda No Troppo lontano Di nuovo qua No 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 Peppe là è troppo dritto Qua vieni dove siamo No dove dico io Peppe vieni qua Venite qua Yuri vieni qua Nel giallo Nel giallo Yuri nel giallo Nel giallo Tutti al giallo Dobbiamo buttarci Se vedete uno che scende su un tetto Ci salite addosso Peppe Se vedi uno che si butta sul tetto Gli andiamo tutti addosso E lo picchiamo col piccone Capito? All'inizio Subito Sì la tattita La tattita Io trovo il cugile E poi piccone Picchiati Allora Scegliete un tetto dove c'è qualche cosa Qua sono Qua Qua L'uso qua il grigio La tazza è grigio No io vado sul tetto del Burger King qua C'è un cazzo Ma c'è gente qua Oh mamma Fuggi 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 Beppe sfondo 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 Entriamo dentro Trovate armi Trovate armi Che c'è gente Arma 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 E qua c'è uno Eccolo No 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 Qualcuno mi aiuti Qualcuno mi aiuti Andate me ha colpito Alcuno mi aiuti Aspetta Yuri No Sono morto Aspetta Vale fuggi Vale fuggi Ma vaffanculo E' arrivato l'altro C'è il fugile Non lo sono riuscito a prenderlo in tempo Sono morto Vaffanculo Ma vaffanculo Ma vaffanculo Attendo è pronto Che pal Allora il posto dove c'è meno gente Devi dire a Yuri Che sempre sono i posti più lontani No C'è buttarti subito Su una casa Non ha senso Perché sono tutti là Peppe metti pronto Beh Sì 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 Ma Allora Non tutto 99 99 99 100 Da sotto O al rifugio Andiamo Andiamo a qua Guardando Sì No Assalto e spring A boh Assalto e spring Assalto e spring Ci saranno milioni di persone Comunque A boh Vai Io mi sto buttando Andiamo Tutti nella stessa casa Dobbiamo scendere Peppe Eh tutti nella stessa casa Una parola Ma tu devi giocare di squadra con lui Ma che cazzo Io non mi riesco A orientare questo gioco E' qua L'ho da Valentina Ho due armi che fanno una più schifo dell'altra Chi è che sta sparando Con chi vi stai sparando Mi spara Non 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 vedi che non c'è Non c'è il fuoco amico Ti posso sparare quanto vuole No non succede niente qua Non c'è Ho trovato L'avevi uccisa No Io mi sto nascondendo Verso Roder Vai Valenti Vai Valenti Vai Valenti Siamo morti in due Vale Vai 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 Attenta la bomba Vieni Vale Vieni Vale Vieni Vale Vieni Vale Vai prima da me Che so più che so morto prima Devo chiudere la porta Peppe dove cazzo vai Vieni qua Non puoi fare niente Vieni Vieni No la porta la posso Cazzo posso fare Non puoi fare niente Fermati non ti muovere Ma che che si sta sparando Ma Yuri Perché Yuri la fu Ah bu Non lo so perché Yuri Sala Che è la social E' qua e voglio andare Il panormento Yuri sempre testa Perché non andiamo Non scendiamo Dove scendere No non c'è niente Via via Dobbiamo trovare Dobbiamo trovare Bende e soprattutto Munizioni Andiamo nell'altra casa Qua A casa di destra Occhio 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 Stanno in due Mi stanno seguendo Nooo me l'ha acchiappato da dietro Sta puttana Stai 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 Via via Sta arrivando Eh Tra Vale e sono in 14 si metti la trappa quello c'è il fucile a pompa non posso c'è il fucile a pompa tutti con il fucile a pompa non li prenderò mai con questa pistolina del cazzo vediamo a Yuri che fa no Yuri è per i cazzi suoi no non ci dice che armi tiene e si fatti così no ora guardiamo Yuri ora guardiamo Yuri fino a che muore minchia col fucile a pompa li ammazzavo tutti dai dove siamo morti io ero di quella casa là giù da qua si vedono pure le persone va 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 lo vedi che stanno costruendo ma Dodo c'è ancora si si ah c'è Dodo questo io prima non mi ha cagato vaffanculo Dodo sto sentendo sto vedendo su Twitch Shroud quello che gioca a PUBG dai Yuri fai una cosa veloce beh così a furia di andare così ora gli arriva una serie di di scariche di fuggilate e muore e muore Yuri ma non devi giocare piegato così sempre sempre in piedi che corre no vai lento vai listo voy a giocare es di voi vai 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 vabbè dai vai c'è uno di casa va ma ló si ma ló c'hazio di paura me lò få con una costruzione c'è una cassa su la cassa su di vasca non ti senti se non parli mi senti che cosa non lo so come si va a cambiare il che cosa tasto destro o il mouse? tasto destro o il mouse? tasto destro wow il mirino d'oro che cazzo viene? fuggire da leggenda fuggire da cecchino poi non serve a un cazzo che cambia po yuri usati ah no c'è un mouse no no ma digiti yuri ma quale tasto è il push talk la y? si yuri mi senti yuri yuri e quella pozione gigante prenditala perchè quella ti e la so ma non tengo spazio e ma butta un fucile butta qualcosa quella ti recupera tutto lo scudo della vita quella pistola non lo porterò mai la nuova pistola riuscirò se lo colpisco e toglie 200 quindi io stai per fare una brutta fine io stai per fare una brutta fine che cosa è brutta sto sentendo Valentino doppiato però la tiene la la cosa tipo costruisce le cose da dietro scappa si la tiene però non ha capito gli stanno sparando da dietro eccoli il fuggire no il fuggire da pompa yuri yuri il fuggire da pompa yuri il fuggire da pompa lascio la gioca a gioca che è un campione si sciò ora gli arriva l'altro da dietro e lo scassa guarda eccolo eccolo che arriva quello attenzione ne butta giù uno ora gli buttano uno ora gli buttano l'albero non stare peccato alzati pum pum morto pum pum undicesimo si ma se yuri viene con noi è molto meglio ti torna la roba yuri per cortesia buttati con noi la prossima volta scegliamo un punto e ci buttiamo tutti la sennò è inutile in tre e allora scegli un posto e andiamo tutti quanti la e allora scegliamo un po' e allora scegliamo un po' e allora scegliamo un po' io lo so io mi hai fatto tu non ritendi voce di prima e ti sei seccato proprio si vede non mi c'ho capito iuri stai zitto in poco e fallo se sei Vieni, ti voglio parlare! Vieni, ci puro me lo tempo! Vieni, tu mi hai capito? Si! Oh, Yuri! Yuri, devi andare a scuola domani! Ma vai... Vai tu a scuola, che ne dici! Ah no, io non ci devo andare a scuola. Tu ci devi andare. Perché non vai? Dai, scegli un punto che ci buttiamo, dai! Scegli un punto che ci buttiamo, dai! Ah, proprio qua, diretti! Vai, buttatevi! Proprio, non ti da nemmeno il... Andiamo a morire all'istante, forza! Dobbiamo fare tutti a Rambo, eh! Si! Sto scendendo proprio in picchiata! Vedo una cosa blu, là. Quella sarà mia. Ora ho una pozione, va del mio spazio. La pozione! La pozione! Ah, la pozione, va del cu... Ah, è il fuggile a pompa, è il fuggile a pompa! Il fuggile a pompa! Il fuggile a pompa! Il fuggile d'assalto! Madonna, non c'è qualcuno da sparare! Boh... Io non trovo nessuno qua! No, ma non c'è nessuno! Penso! Meglio così, Beppe! Meglio così! Oh, vale, vale, vale! Guardami, guardami! Dove sei? In mezzo al campo! Non ti vedo, Beppe, non sono là con te! Sto arrivando! Cioè, no, non sto arrivando perché sto andando a cercare altre armi, altre cose! Ma sei su queste cazzo di granate! Non le voglio! Oh, qua c'è un'altra arma! Oh, qua c'è un'altra! Che cazzo stai scassando? Il garage Andiamo, dai buttiamoci al centro, andiamo a pinnacoli pendenti, andiamo a morire Iuri, andiamo a pinnacoli pendenti, al centro, andiamo a morire, forza No, dai, andiamo a prendere e ammazzare qualcuno, andiamo, 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 forza Come sei violento Come sei violento Andiamo Ah, pinnacoli, apri la mappa, c'è pinnacoli pendenti Ok La mappa la puoi aprire sia con M che con TAB Io sto bene qua Io li tieni con noi, santo Dio, sono all'ultima partita che mi faccio Mi sto scherzando Ma ci siete? Sì Sento, sento delle botte Sento che si sta sparando qualcuno Mi manda a scuola con lo scaldino tuo padre e così non senti freddo Con lo scaldino Perché sei andata a sinistra? Perché solitamente qua sopra c'è la casa E' già scassato tutto qua No, era già sconsata questa cosa Dai, dai, andiamo, andiamo Andiamo a prenderlo Chi l'ha ucciso? Chi l'ha ucciso? Ancora Chi l'ha ucciso? A chi è? Il mio padre forse Io, io, forse Io un bel di colpito, non sono riuscito a A palestra, che schifo Lo dice, di lato al numero di quante persone sono vive C'è scritto un test E poi c'è zero, io zero non l'ho Dove? Ah c'è la casa, bravo Yuri Oh, che ho nella casa c'è gente A 165 Dove? 165 Là c'è gente Sei sicuro? Pure a 136 Oh, andiamo, 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 andiamo Passiamo nella casa di fronte Andiamo nella casa di fronte, io vado Io? Dove? Qua, nella casa, guarda, guarda me Nella casa di fronte Non l'avevi, ah ok Di qua, Yuri, da la destra Ah, ma l'hanno pulita già Che è successo qua? Ma vaffanculo Chi ci sa? Stai più, guarda stanno in fondo Oh, c'è qui gente qua sotto Qua, qua stanno salendo Ma dove sta? Occhio da sotto Occhio sotto E, Yuri, mettiti un'arma Peppe, attento, stanno qua sotto E, e, poi sono in fondo Guarda, in fondo dritto così Nella casa dall'altra parte Sì, li ho visti Ecco, esattamente quello Vieni qua Vieni qua Stai fermo Sono qua Uno sta arrivando Peppe, spara tu Per provare a rianimare Peppe Aspetta Peppe, Peppe, Peppe Oh! Ma adesso basta è venuto Poi parete a me Su basta, fa pure un balletto Dov'è? Benua, non l'ho sentito proprio Sulle scale Sto finendo occhio Guarda, facciamo così Cioè, ma mi sa proprio Ma che è Death salvato? Che mi ha salvato la vita a me? No, tipo di Highlights di invidia Qua son morto, Valenti Attento Qua son morto, Valenti E' morto quello E' morto Vieni, ferma, ti ferma, ti ferma No, vale, sul tetto Ah, questo è Yuri Peppe, fermati qua un attimo L'ho ammazzata quello E' morto No, ce n'è un altro là Su quelle scale costruite L'ho ammazzato, fermati L'ho ammazzato, fermati Ho ammazzato, fermati Ho ammazzato Peppe, che è successo? Il Peppe è morto Eccolo, ha ammazzato pure Yuri Grande, chi è stato? Grande, chi è stato? Ma vaffanculo Ragazzi, sono entrati due di voi Uccisa Yuri E' un nemico che ha ucciso Yuri Sì, ma questo è troppo forte Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ecco perché non si deve andare nelle grandi città Riportate qui Eh, per questo non si va mai nei punti grossi Yuri, ora ci devi seguire tu a noi Sennò non giochi più, eh Ok, guarda, c'è un bel punto No, faceva schifo Allora, per favore, ragazzi Mi devo fare una quest qua Fatemi aprire tutti i forti Me ne mancano altri Sennò di Cosa? Però che caffi? Un camper quello da Voglio costruire di nuovo la femmina Cosa? Ora senta a me Ti dico io dove andare Allora, noi partiamo da qua sotto Guarda, guarda, guarda qua No, no No, è troppo vicino Guarda Ti dico io dove andare Dobbiamo andare tipo Qua Guarda a me Guarda il rosso Il rosso Mettate il rosso Qua, 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 qua Dove salgare Dove salgare Dove salgare Va bene Però andiamo là In effetti Andiamo morì andiamo È la stessa traiettoria Forse è meglio il Tomato Town Qua è carissimo questo bordo Sta un cacco di pistole buone e di buone In effetti In effetti qua una volta ho trovato lo Sparacca Fatemi apri le cose, le casse, non aprile voi Ma qualcuno ne ascolta Juni ma non rompere i coglioni C'è, ho dovuto fare una quenzo, però l'ho chiesto Eh, gioca, eh, non è un gioco di questo, questo Se la ciro la gente Esatto E basta Soprattutto non si deve morire Chi l'ha aperto, ragazzo? C'è un fucile qua sopra, se vi interessa Sì, a me aspetta Eh Dove? Qua sopra Qua, ha fatto una scala qua No, non lo buttare, Pepe, c'è... Eh, Yuri c'è il co... C'è niente qua sopra ancora Ah, quindi qua non c'è il fuoco amico praticamente No, no, puoi sparare tranquillo Sotto questo punto di vista è più facile allora Eh, ma secondo me è più difficile da mirare, però Rispetto agli altri giorni No, no, mi... Nessuno mi può ascoltare Io ho chiesto una cosa Vabbè, ce andiamo Ora è il momento di andare via da qua Dobbiamo creare... Un castello di metallo No, ma te lo buttano giro un attimo Non serva a niente Andiamo via da qua Le sostruzioni servono soltanto per darti tipo Un vantaggio tattico Perché tipo sei sopra gli altri Tutto qui E' una cosa... Ho sbagliato... Oh, qua si sale Non c'è niente Ma perché faccio il balletto Oh! Pepepepepepepepe, fermati Fermati che ti faccio il balletto Fermati, fermati, fermati No, dammi pigliare! Bolliamo di nuovo! Vabbè, ora andiamo ad ammazzare la gente. Aspetta... Allora, ora è inutile continuare a scassare se mi volete ascoltare. Dobbiamo spostarci, dobbiamo andare in un altro posto. Tipo qua. Guarda il rosso. Andiamo al rosso. Senta me, andiamo al rosso. Vediamo tutti al rosso. Vediamo se prendiamo altre armi. Occhio, occhio. A 57 c'è uno. Uno solo. Cioè da solo. 57. Andiamo a prenderlo. Andiamo sparati e andiamo a prenderlo. Eccolo, eccolo. Non l'ho visto. Vieni, vieni, seguimi, seguimi. Eccolo qua. Eccolo qua. No, non è uno. Sono due. Ma non posso mai essere. C'è quello che... Occhio, dove cazzo siete? Andiamo a prenderlo. Scendiamo tutti, scendiamo tutti. Andiamo a prenderlo. Peppe, nella casetta sono. Guarda, entra qua. Ne ho visto. Eccolo là. Uno è là sotto. Ho preso. Eh dai, ma che palle, ma che cazzo... Guarda quello dove è messo. Adesso, adesso, adesso. No, 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 no. Ce n'è uno sulla montagna. Ce n'è uno, ma che palle, c'era quello sulla montagna. A me penso che mi abbia fregato il ninja. Raga, ma ci ho dato una fucilata in testa. Ho salzato e ce l'ho sparato. Adesso ho fatto solo 40 di scu. Ah, che palle. Basta, ci fermiamo. Sono miei alcuni qua cittano. Ultima. Ultimissima, dai, e basta. Noi, dai, l'ultima. Un'altra. Ultima, e basta. Ultima. Io rimando uno, grazie. Ciao, Dodin. Eh? Buonanotte. Notte, Dodon. Dodon, mandi il link di quello là che ti sta vedendo su cosa. Sì. Balliamo tutti, ballate tutti. Ma che poi fai dei cazzo di balli orribili? No, ma te ne sono altri ancora peggio. Ma che sono sti ninja qua? Guarda quello rosa. L'ho mandato per più. Oddio, guarda questo. Guarda quanto cacchio schifo qua, questo qua. Guarda questo. Guarda qua. Guarda quest'altro. Vabbè, non fa niente. È un cavaliere di coso là. Ma posso scegliere io? Vai. Qua. Sì, sì. Dove dobbiamo andare? Per il blu. Qua. 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 Al blu. Ok, buttati. Ok, buttati. No, che fa... No, non c'è bisogno. No, non c'è bisogno. No, non c'è bisogno. La cazza sta scendendo uno eh. No, dobbiamo andare la lontano. Viste ne. Ce lo freghiamo. Appicconate lo prende in testa. Oh, c'è la cassa qua, io scendo qua. Ci vediamo dopo. Ma vaffanbagno la balestra Meglio di niente Ma che cazzo faccio con la balestra Uh il fucile Ok Dove siete? Nella casa? Arrivo Balestra e rompata Io pure c'ho la balestra Ma fa schifo come Permesso Avanti Salve No la bomba ballerina hai preso Ti levi Pepe? No 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 voglio la bomba io Io esco dal tetto Ecco lo sapevo A tetto la bomba E' una porcheria quella bomba Non è bella invece è utile C'è la cassa C'è la cassa E' mia Dobbiamo spostarci Dobbiamo spostarci Andiamo verso destra Le lande letali Dove? Lande letali Ah la sotto Ok Vai Però per spostarci dobbiamo andare da una casa all'altra Ok ci sta una casa mezza sfraccellata qua di fronte a me Ma che sta cantando? Che sta cantando Yuri? Non lo so Papi per casa tu e la palestra? No No La palestra? Si ne? Aspetta che parlo Yuri ma che stavi cantando? Mille Ma come niente? Che stavi cantando? Che stavi cantando? Ragazzi c'è una porta aperta qua Entriamo da sotto Guarda due sono O sfondiamo da qua O entriamo dalla porta Eccoli qua Eccoli qua Eccoli qua Eccoli qua Dove? Dove? No Peppe non sparare da lontano Ti facciamo solo vedere Guardi fai troppo rumore Fai troppo rumore Ma qua hanno pulito tutto comunque Vabbè magari Mi hanno sempre qualcosa Il nulla Rimane sempre Guardate che si può correre anche in ginocchiaio Hanno preso tutto Ah c'è uno scudo di grande sopra se volete Dov'è? Qua Eccomi Ma ce l'ha Yuri? Ce l'ha Yuri? Che cazzo devi fare? Andiamo Andiamo via No ma dobbiamo andare all'Anda Letale Ancora non ci siamo arrivati Eh andiamo 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 all'Anda Letale Dai Dai verso il blu Yuri Dai Yuri andiamo Yuri andiamo Guardi l'Anda Letale Guardi l'Anda Letale All'altra parte L'ho ammazzata L'ho ammazzata Ma che è? Ho ammazzato una kill Ho ammazzato una kill Ho ammazzato una kill Eh ma se l'ho ammazzata vuol dire che c'è altro geno Bende no Bende no Bende no Bende no Qualsiasi cosa Dove stai Yuri? Non ti vedo Dove stai? Non ti vedo Qua 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 Gemi l'occhio eh Dove cazzo state? Ma stai girando intorno alla casa Dove siete? Ok Nel carcere Bravo Yuri Dai ma mi serve qualcosa Qualsiasi cosa Vieni con lui Dai dai ti proteggiamo Io mi ripiglio questi fusili a pompa Non si sa mai Aspetta Yuri Andiamo verso destra I colpi I colpi I colpi I colpi Stenga vanno l'occhio per chiangere Dove cazzo stiamo andando ora? Andiamo sto cazzo Dove ande letale E ancora non ci stiamo girando in tondo Ma non ci siamo andati Ragazzi andiamo verso questa pasta Andiamo un po' Mi chiamo fuggi la pompa a giro ora Vaffanculo Lì c'è una casa Una casa Che se è ristretta la Dai la casa Ma dove cazzo siete? Ah ma tu sei già là sotto Bambina cazzo una Manco altre tre Manco una da aperto C'è una si la ho detto Per fortuna Allora a portare la aperto una Da c'è Dovevo fare una missione E bobo la missione la fai dopo Mi aspetto raga Ok siamo dentro la tempesta E ci sono rimaste 27 persone Sali là su quel tetto Vado col fucile con un po' mitraglietta Perché prima l'ho ucciso con la mitraglietta La mitraglietta La casa ando sfondando una cassa Ok la cassa è esplosa Quindi la sapina di gente Dove? Un numero pezzo Oh no Oh c'è lo scudo gigante là Quindi qua c'è sta gente E ci scassano di bot Scudo Yuri se lo deve prendere Eh dai Qua Yuri guarda sali Dove siamo io e Tova Qua Yuri dove sono io vieni E metti lo scudo soprattutto usi No così No lui è all'in piedi Allora O provano ad entrare qua All'andeletale C'è la cassa Yuri le band Come si butta la roba per terra? Premi E poi fai tasto Fai tipo Clicca sull'oggetto e fai rilascia Se no Peppe Se devi sostituire qualcosa Eh tu per esempio Peppe Eh no Già ce l'ho quella la Peppe Eh Peppe Dei sostituire qualcosa Premi il tasto corrispondente Tipo all'oggetto che vuoi buttare E lui te lo sostituisce con quello Capito? Yuri si piatta Tu la mitraglietta Non mi è rimasta la pistolata Oh spari Chi cazzo è? Andiamo dentro il capanno Andiamo dentro il capanno Qua 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 in questo Però non sfondatelo Dove cazzo è la porta Qua qua di lato vale E questo qua di lato No qua C'è la cassa se non sbaglio La sento Sento una cassa Che cazzo è sul tetto Ah qua è No mi lasci quel fucile Quella mitraglietta Figliati questo Figliati quello Ma che lo vado a posto A forza lo vado veramente a posto No no che cazzo fai Andiamo Proviamo ad andare in quella di fronte Dove c'è quella cosa verde Via 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 Andate come missile Via 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 Dove? Dove cazzo stanno loro Siamo rimasti in 18 e 4 siamo noi Allora Alcuni sono su quella montagna Lassopra a 300 Ma dove si restringe la tempesta Siamo buoni qua messi Cioè qua no 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 Yuri Yuri non devi lanciare queste cose qua Che ci fai scoprire Annacce Torniamo nel capanno O andiamo in quella casa Dobbiamo spostare in un altro Aspetta là stanno costruendo Andiamo nella casa Vieni andiamo Segui me Segui me Peppe Peppe vai nella casa Quella di fronte Hanno costruito la casa Casa grigia? Sì sì Quella grande Stiamo proprio al limite del safe Non fa niente va bene Buttati dentro No no Ti sto avvisando No non siamo in safe Ancora qui Eh siamo al limite Siamo nel contorno Eh però può essere anche che dopo Restringe magari non verso di noi Ma cioè non verso di là Ma verso di qua Quindi noi siamo Continuiamo a rimanere poi dentro Allora levati i rodi Io vado sul tetto Ma se posso unire i proiettili di due armi uguali? No E come faccio? Faccio una calcola No ma tu posso che ci fassi sopra Tritare i proiettili Vengo Oh bello questa Ah se è piatto l'oro E c'avevo stamermi di merda Mi dite cosa ve l'ho trovato Sì c'era da cerchere Uscire da cerchere Sì Uri dove cazzo stai? La vedi quest'arma? Già la tengo due volte Come faccio? E' un'arma comune quella No ma dobbiamo andarci Ui che spara? C'è qualche cerchino Guarda quello là sotto Guarda quello là sotto Dove vale? Dove vale? Dimmi il numero Attenzione E' 322 L'ho preso Stanno arrivando L'hai visti dove sono? No Oh scendete giù Sono qua dentro Uno l'ho ucciso Nooo Capita l'ultimo a tutto Ma vaffanculo Dove è Iuri? No lo so dove è Iuri Iuri stanno tutti dentro Vai via Stanno tutti dentro Iuri fuggi Iuri fuggi Iuri fuggi Iuri fuggi Iuri sotto tutti in là Iuri Iuri Tu lascia di ammazzare tra di loro E' stato bello conoscervi E' stato bello conoscervi No No Ora guarda gli fanno un assalto Tipo da dietro Lo scassano Per non farsi notare Iuri salta sulle gomme Iuri scappa sempre Tu corri corri Iuri devi scappare da qua Vai Attraversa la fattoria Va dal lato opposto Ora morirò Sì probabilmente Soprattutto se stai col fuggito da cerchino qua dove non c'è nessuno Cioè col fuggito da pompa Guardate là sopra che hanno costruito Allora dove stanno loro? Da dietro gli arrivano guarda Sì sì Sta per morire Iuri se vuoi vincere devi ziccarti dentro una casa E non ti devi muovere dalla Ecco nella safe possibilmente Iuri vai in safe Ficcati là dentro E fai finta di niente Quando ne rimane uno esce e provi ad ammazzarlo Oh guarda che c'è là Mamma sei morto Mamma sei morto No col fuggito Pum 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 Noo Yuri Noo Yuri Noo Yuri Noo Yuri Noo Yuri Eeeh Pum 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 Quartiosi Ma La gioia non viene mai Quando avete quella roba Che cazzo hai fatto con la balestra Yuri ma dai Pum 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 Avesse ieri chi vince la partita Ormai vediamo chi vince Tanto ora alla fine si distruggono Sono tre ora Ma questa ha ucciso otto di loro Eccolo Ecco Delle granate Pum 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 Cazzo quel rabbo Guarda quello là sopra che le sta ammazzando tutti Mamma qua gli sono arrivati in testa Hulk qua che è sta Hulk verde Ma chi è questo con le corna da cervo? Attenzione, la corva col cervo vince Sì, secondo me il cervo vince Io punto tutto sul cervo Io punto tutto sul cervo Io punto tutto sul cervo Sono rimasto in tre ed è fuori dalla cosa ora Questo Dove va? Chissà dove cazzo Sì, ma devi vedere dove sono gli altri due Uno è là, l'ho visto Ma perché loro hanno lo zaino? Guarda, guarda come costruisce Ah, uno è lì, eccolo Minchia Aia Da con quanto è rimasto? Immagini, è visto Ah, otto di vita Ora ci muore Mi sa che il cervo ha perso PUM! In testa! Ha vinto questo Quello che ci ha sfondato a noi Hai vinto, ha vinto Sì, sono rimasti in due, erano assieme Sì, hanno vinto Basta Ha vinto? Sì Allora, partiamo? Basta No, basta, io risuono le 3.10 Sì, è una meraviglia Noi facemmo scondere Tutte la bacia All'accogliere il margherito A.10 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 B. A.10 A.10 A.10